Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ogni martedì scopriamo insieme gli spettacoli di Piemonte dal vivo. Sono molto felice di avere un ospite al telefono. Diamo il benvenuto a Giacomo Poretti. Ciao Giacomo. Ciao, buona serata. Ciao. Eccoci qua. Siamo pronti e in grande attesa per questo spettacolo che arriva il 15 febbraio al Teatro Alfieri di Asti, alle 21, poi il 16 marzo al sociale di Pinerolo, il 21 aprile al civico di Vercelli. Uno spettacolo di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Già il titolo è tutto un programma, Funeral Home. Ci racconti qualcosa Giacomo? Allora, è una commedia ovviamente, si ride molto, dove i due protagonisti sono due anziani, marito e moglie, sposati da tanti anni, che un bel giorno o un brutto giorno, dipende dai punti di vista, devono andare a un funerale. Allora, lui non ne ha nessuna voglia, anche perché il tema proprio lo inquieta tremendamente, mentre lei è molto disponibile a parlarne, anzi ad accettare la realtà che incombe. Sì. E non vi svelo il finale. No, no, certo. Però, ecco, è una commedia che si gioca su questo registro. Diciamo che i comici hanno sempre o quasi sempre affrontato questo tema molto scomodo, che è quello dell'al di là, della morte, l'hanno sempre voluto affrontare e anche noi abbiamo voluto cimentarci in questo argomento che è molto, molto stimolante. Sì, che poi è un argomento che per qualcuno è proprio tabù e si pensa sempre che gli anziani siano quelli un po' più predisposti, no? Magari per parlare di questo argomento che è la morte. Esatto, ma in questo caso uno dei due anziani proprio non ne ha nessuna voglia. Assolutamente, esatto. E quindi da qua si scatena tutta la hilarità, la comicità, ecco. Ecco, quindi perché dovremmo venire a vedere questo spettacolo? Perché sai che è un argomento che davvero tocca, però vorrei che fossi proprio tu a darci questa particolare visione, perché comunque è un argomento che riguarda tutti noi, però secondo me c'è proprio bisogno anche di sdrammatizzare. Beh, intanto perché si ride molto. Certo. E' uno dei motivi. E secondo perché attraverso il rapporto conflittuale tra i due anziani, marito e moglie, in un qualche modo se ne parla. Certo. Lui proprio non è disponibile neanche a sentire la parola, no? Alla fine se ne parla e poi alla fine si arriva, perché l'argomento è doppio, è la morte e la vecchiaia. Certo. E quindi poi alla fine si risolve in maniera politica questa cosa, però vi assicuro che è molto molto divertente e molto poetico. E non ne abbiamo assolutamente dubbio. Allora, 15 febbraio, Teatro Alfieri di Asti alle 21, poi 16 marzo, Teatro Sociale di Pinerolo 21 aprile, Teatro Civico di Vercelli, Funeral Home di Econ Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Giacomo, grazie davvero per essere stato con noi su Radio GRP. Grazie a voi. A presto, ci vediamo a teatro. A presto. A presto.